una produzione telemantova in collaborazione con centro del riposo d'orelan a cerese la nuova collezione letti e gli innovativi materassi fisiologi ristorante acqua pazza a mantova i sapori della penisola sorrentina buonasera buonasera a tutti voi cari telespettatori ben ritrovati a medicina in linea l'esperto risponde l'appuntamento del mercoledì sera di telemantova con il benessere e la salute ci ritroviamo assieme per questa nuova puntata in diretta dagli studi del boma tanti saranno gli argomenti che andremo a trattare tutti nella prospettiva di prepararci al meglio fisicamente ma anche esteticamente all'arrivo della bella stagione ultimi giorni di pioggia almeno così dicono gli esperti e poi dal fine settimana arriverà finalmente il caldo della primavera la primavera che porta con sé la voglia di rimettersi a nuovo diciamo così ma anche un po di stanchezza che scende sulle spalle magari anche un po d'ansia perché i progetti all'inizio dell'anno sono tanti e parleremo anche di questi argomenti c'è un numero di telefono 0 3 7 6 25 43 20 a vostra disposizione per porre le domande ai nostri esperti che andiamo subito a conoscere partiamo dal nostro dottor cardaci buonasera al dottor cardaci medico di base ma questa sera anche nelle vesti di medico estetico perché ci parlerà di liposuzione e vedremo di capire quanto questo intervento sia da non confondere con invece i trattamenti estetici di bellezza che andremo a parlare anche di questo vicino al dottor cardaci la dottoressa loretta signoretto buonasera dottoressa farmacista questa sera lei ci guiderà in questa stanchezza primaverile vedremo come di che cosa si tratta e come trattarla anche con la fitoterapia molto importanti questi metodi un po alternativi diciamo la medicina naturale ma io dico sempre anche complementari che ci danno una mano in studio con noi inoltre c'è manuela abbaiochetti buonasera signora abbaiochetti che è formatrice motivatrice di bellezza una qualifica molto importante magari poco conosciuta che andremo a conoscere appunto nell'arco della nostra puntata in questo primo segmento vicino a lei c'è anna chiara marastoni buonasera e anna chiara invece è esperta nei trattamenti di bellezza vedete che la puntata di questa sera è tutta basata diciamo su su questi aspetti poi ci saranno altri due ospiti che ci raggiungeranno nelle altre parti della trasmissione perché parleremo sempre di altri argomenti legati alla bellezza allora iniziamo con manuela baiocchetti bellezza o benessere questo è il titolo del nostro primo segmento perché talvolta si dice che questi due e questi due aggettivi non si sposino bene invece invece dottoressa ma invece dipende da qual è la visione che abbiamo di bellezza nel senso che se pensiamo che il corpo sia semplicemente l'involucro che abbiamo possiamo pensare che la bellezza sia un dono di natura o qualche cosa che possiamo conquistarci artificialmente attraverso delle tecniche manipolative fino agli estremi della chirurgia estetica se pensiamo invece a una visione olistica è ovvio che il corpo è una componente la componente esterna che è animato e sostanziato dalle altre dimensioni che sono una parte cognitiva mentale e una parte emozionale e in questo approccio che peraltro è quello che l'organizzazione mondiale della sanità da anni come dire diffonde come concetto di benessere l'idea del benessere proprio una visione olistica in cui non si può parlare di benessere fermandoci semplicemente a livello corporeo ma benessere inteso come biopsico sociale quindi beh quanto importante mi permetto di dire che il benessere si manifesta quando una persona sta bene con se stessa sta bene internamente poi perché no anche un benessere estetico certamente non crea danno senta io l'ho chiamata formatrice motivatrice di bellezza ma in realtà il termine corretto è ce lo dica lei bene termine corretto è counselor sorrido perché la professione counseling che in italia c'è già da vent'anni e che esiste nata negli stati uniti 50 anni fa in realtà è stata riconosciuta proprio all'inizio di quest'anno nel senso di una professione riconosciuta ma non normata e io non sono formatrice motivatrice di bellezza ma sono formatrice motivatrice quindi counselor che cos'è il counselor il counselor e che ruolo ho come counselor all'interno di un istituto di bellezza il counselor guarda più al benessere esatto inteso nell'accezione che ci ha spiegato un istituto di bellezza dove la bellezza è considerata in senso olistico proprio di benessere dove siamo un'equip di multiprofessionalità che prendono in carica la cura della bellezza non solo nell'aspetto squisitamente estetico ma nel rispetto del benessere globale e olistico per cui accanto a medici di medicina naturali all'omeopata al naturopata e ci sono anche professionisti come lo psicologo per esempio che si occupa dei disturbi alimentari piuttosto che di altre patologie che poi possono avere un'incidenza rispetto agli aspetti estetici e il counselor che invece è un esperto di comunicazione di ascolto e di relazione e che aiuta le persone in momenti di difficoltà di fragilità di crisi soprattutto nei momenti di impasse rispetto a delle situazioni che chiedono un adattamento a dei cambiamenti esterni o a dei cambiamenti interni fasi della vita in cui una particolare difficoltà può avere un'incidenza sulla nostra condizione di benessere che sia una situazione legata a una perdita una separazione piuttosto che altro oppure una situazione di crisi contingente come quella contestuale che ci troviamo a vivere che ha un'incidenza molto forte rispetto agli aspetti emozionali e quindi anche psicologici e che chiaramente si riverbera sul benessere delle persone in una visione globale anche sulla manifestazione psico corporea e come dire a tutti i livelli no bene lei ci ha fatto questo breve brevissimo escursus ed è molto interessante ascoltarla perché ci fa capire che nei centri di bellezza di benessere si possono incontrare anche persone molto preparate come lei in grado di dare un segnale positivo alla persona che si avvicina proprio in un contesto generale anche psicologico ci ha appena detto con le persone diciamo addette ed esperte del settore per cercare di restituire anche una certa sicurezza attraverso quello che è il riscoprire il benessere. Senta e chiedo invece ad Anna Chiara perché le persone si avvicinano per mettersi anche diciamo la verità in forma no in vista della primavera dell'estate soprattutto però accanto ai metodi un po' tradizionali cercano anche qualcosa di diverso magari per rilassarsi un po' e per riequilibrare lo spirito no dallo stress lavorativo e quindi ritornare diciamo in armonia con se stessi. Ad esempio da voi che cosa c'è? Ad esempio adesso siamo usciti con una novità che abbiamo già da qualche mese che è per eccellenza uno dei trattamenti più rilassanti in assoluto. Magari lo vediamo anche? Sì una combinazione di sfioramenti di pressioni e di stiramenti. Allora qui che cosa succede? Qui è una preparazione di lavanda e cristalli di sale vengono fatti questi boli questi sacchettini e poi viene effettuato prima di iniziare il trattamento un'esfoliazione al corpo per poi passare a un massaggio di ispirazione Thai per cui tutto ciò che è naturale. Allora adesso voi lì si vede che state preparando questo sacchettino. Sì questa è una preparazione del trattamento che poi invece va si parte con il viso in questo caso. Sì questo viene lavorato in viso e corpo per cui ridona un equilibrio al corpo e un procura un benessere assoluto mentre corpo sono profondamente rilassati la pelle è elastica subito con una seduta si ha un po' tutti i benefici questi principi attivi marini di oligoelementi per cui un trattamento totalmente naturale ridona alla cliente. Sì esatto un po' come io dico sempre la sensazione che hai dopo questo trattamento è come una gita arriva al mare perché ti dà proprio tutti gli oli tutti le vitamine tutti gli oligoelementi del mare li ritrovi poi sulla tua pelle. Ecco non solo sul viso adesso la regia ci proporrà delle altre immagini ma poi anche sul resto del corpo no questo fatto nell'assoluta rilassatezza ed è estremamente diciamo anche interessante vederlo perché dà un senso di relax è molto rilassante adesso stiamo uscendo anche con una nuova tecnica di massaggio per il per quel che riguarda il viso che è una tecnica di massaggio giapponese chiamata kobido è una tecnica soprattutto perché va a stimolare il collagene per cui la pelle sia da un trattamento in poi ricompare molto molto chiedo la regia se prosegue va avanti un po' con le immagini e in modo poi da vedere anche il resto come questo è un trattamento che viene fatto su qualsiasi tipo di cliente dalle giovanissime alle donne in gravidanza e alle donne anche più mature perché comunque ridona un riequilibrio generale del corpo vediamo se la regia ci aiuta ecco ad esempio qui che cosa c'è questo è un massaggio plantare e anche questo fa parte appunto esatto questo è il primo benvenuto che si fa alla cliente quando la si fa accomodare in cabina di massaggio insomma tutto molto molto rilassante vedo quindi significa che non c'è solamente un trattamento diciamo classico che magari può essere tipico di un centro estetico di bellezza ma qui vediamo insomma una situazione alternativa questo l'abbiamo preso esattamente in esempio come massaggio rilassante ecco ci sono anche però ovviamente se una persona ha bisogno anche altri programmi più personalizzati abbiamo avvolgimenti con alghe abbiamo tantissimi trattamenti dal dalla pressoterapia al bagni di vapore all'idromassaggio con gli oligoelementi abbiamo qualsiasi tipo di trattamento che riguarda la cura estetica di pedicure manicure trucco quindi insomma le cose sono qualsiasi tipo di massaggio sono varie esatto sentiamo se c'è una telefonata e vediamo se siamo in grado di passarla pronto grazie grazie buonasera allora questa depilazione definitiva anche che signori uomini cercano in vista dell'estate magari fa sport eccetera esatto noi abbiamo la fortuna di avere una collaborazione con un centro medico per cui abbiamo un dottore che si occupa di laser di depilazione laser e nella quale non ci sono problemi sia per il maschile che il femminile quindi la risposta è che non ci sono problemi avvicinarsi esatto tranquillamente senta e invece le richieste maggiori in vista dell'estate per mettersi in forma quali sono? ma ovviamente lo snellimento lo snellimento per eccellenza per cui questi avvolgimenti a queste alghe particolari dalle alghe rosse alle argille abbiamo qualsiasi tipo di trattamento ci possa però la medicina naturale è particolarmente richiesta anche perché le persone cercano perché la gente ha sempre più bisogno di rilassarsi in questo modo coincidono le cose il rilassamento e lo snellire il corpo esatto insomma molto interessante anche perché i massaggi sono completamente rilassanti ma nello stesso tempo sono modellanti senta signora Manuela tutto questo voi fate tesoro di tutte queste indicazioni che arrivano dalle persone che si avvicinano a voi e poi le trasmettete anche alle persone che debbono lavorare sulle persone che si avvicinano no? perché è giusto che diano la giusta comunicazione le giuste indicazioni il lavoro è esattamente in team per cui come dire la persona viene presa in carico in base a quelli che sono i bisogni segue un percorso quindi ci può essere chi arriva semplicemente per un trattamento estetico che invece ha un bisogno più profondo che può essere legato appunto al dimagrimento piuttosto che a una non accettazione del suo aspetto estetico allora il punto d'arrivo può anche essere quello di un intervento chirurgico nell'istituto che ha anche la parte di chirurgia estetica ma è chiaro che prima c'è la verifica di che cosa conduce la persona a quella scelta perché spesso sono invece degli aspetti legati a una bassa autostima a una non accettazione di sé oppure per quanto riguarda per esempio invece il dimagrimento piuttosto che aspetti altri legati alla salute spesso c'è la perdita del mantenimento dell'obiettivo proprio legato a questioni di demotivazione o a schemi ah beh certo perché se non si è motivati ad andare fino in fondo è un po' difficile già è dura di per sé no? scambiare abitudini eccetera bene allora noi vi ringraziamo per il vostro intervento il nostro primo segmento è terminato un po' di pubblicità restate con noi e poi parleremo di stanchezza primaverile a tra poco bentornati a medicina in linea adesso parliamo di stanchezza primaverile con la dottoressa signoretto farmacista dottoressa ma il binomio primavera stanchezza è il binomio che ci sta o è un detto comune? no no ci sta ci sta tranquillamente tant'è vero che basta che guardiamo i nostri animali domestici il cane e il gatto che loro sicuramente sono super partes vanno a mangiarci le erbette vanno a cercare quindi quel qualche cosa in più che gli serve a star meglio ed è quello che dobbiamo fare anche noi durante questa stagione che ci mette a dura prova perché basta che pensare che in primavera si scuote dal torpore ma i nostri ragazzi per esempio sono impegnati negli scrutini, negli esami in primavera c'è l'attività commerciale che è sempre più andando avanti un pochino quindi ecco la primavera ci dà un segnale di stanchezza sicuramente ma anche coi primi teppori che adesso non si sono ancora fatti sentire ma dicono appunto da sabato come diceva prima ecco appunto quindi arriveranno allora che cosa fare? cosa facciamo? ecco chiedendo consiglio alla natura? sempre sempre la natura per prima poi eventualmente anche esatto esatto e naturalmente la natura il nostro dottor Cardaci è d'accordo beh per prima il medico infatti lo stavo proprio imboccando senz'altro passando dalla parte del medico dalla parte del farmacista che sanno cosa consigliare però l'importante è no dottor Cardaci che il paziente stia bene stia bene quindi qualora la medicina naturale abbiamo sentito la settimana scorsa con il mal di testa rischia anche di diventare una valida alternativa a quella che è invece la medicina tradizionale qualora la persona venga ingolfata di farmaci non si ricorda quella telefonata che ci è rimasto impressa prego dottoressa signore grazie in ogni caso molto spesso si ricorre al ginseng si dice questo ginseng ma non c'è solo il ginseng che comunque il ginseng è una cosiddetta pianta eroica che può andare bene eroica intendo dire molto potente ma ci sono anche altri tipi di piante altri tipi di ginseng parliamo per esempio del ginseng peruviano che è poi la maca una pianta estremamente femminile una pianta che viene utilizzata in maniera alimentare già da tantissimi secoli e che è perfetta proprio per la stanchezza femminile oppure possiamo anche parlare di due piante siberiane tutte e due quindi abituate ai climi molto freddi la rhodiola rosea e l'eleuterococco senticosu appunto detto appunto ginseng siberiano tutte e due hanno principi attivi simili che li possiamo trovare in integratori alimentari speciali proprio in questo periodo per sostenere quindi proprio per dare la capacità non solo di sentirci in forma ma anche per migliorare la concentrazione per esempio la capacità di lettura senta non ci danno un po' di agitazione no vero ecco quello è importante perché alcune volte qualcuno dice si prendo un po' per rinforzarmi un attimo poi mi metto un po' è di stato di irrequietezza è un problema l'irrequietezza data dai tonici nervini infatti molto spesso sarebbe allora semplice prenderci un caffè certo invece si sente subito bene però dopo un po' c'è il cosiddetto effetto rebound cioè torna indietro ci si sente ancora più stanchi di prima è la stessa cosa che accade qualche volta anche col ginseng classico mentre con queste piante questo non succede bene guardi che questo è importantissimo quindi andate ad informarvi farmacia per queste piante che sono contenuti che poi ci sono tanti prodotti che fanno sintesi di queste piante perché poi non tutti hanno il tempo di andare ad esempio in erboristeria a prendere le singole piante di preparare gli infusi e le tisane e poi soprattutto quando vengono assemblate vengono assemblate per estrarne i principi migliori quelli più attivi quelli che fanno bene subito diciamo se no bisognerebbe prenderne in quantità spropositate no no queste piante concentrate diciamo concentrate infatti la lettura dell'etichetta insisto sempre su questo è estremamente importante cioè non è necessario non è sufficiente che ci sia scritto soltanto Rodiola rosea o Eleutauro cocco senticosus va visto quanto ce n'è bisogna pensare che queste due piante in particolare le siberiane sono state utilizzate proprio per la prima volta dagli astronauti russi per resistere alle fatiche quindi sicuramente se loro cosa ci dice o no va bene anche per noi ma certo allora vediamo se c'è una telefonata pronto? pronto? vediamo pronto? buonasera una domanda la stanchezza primaverile può manifestarsi anche nei bambini? grazie buonasera 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 a lei ecco allora questa stanchezza solo degli adulti o anche dei piccoli? per i piccoli un po' difficile magari a cose perché sono iperattivi no? no anche dei bambini perché purtroppo chiediamo troppo ai bambini ai ragazzi in generale non vanno su una scuola fanno mille attività e soprattutto in questo periodo cominciano i saggi cominciano le corse per i tornei di basket eccetera gare di atletica tutto tutto in primavera tutto prima dell'estate tutto di corsa e quindi risentono anche talvolta quindi anche i bambini dice ci sono delle piante o comunque degli oligolementi qualcosa da prendere per i bambini sì sì anche in particolare per loro sicuramente dare qualche cosa di nutrizionale quindi in questo caso nomino due principi attivi uno che è la vitamina C estratta dalla rosa canina in particolare la rosa canina che tra un po' fiorisce a maggio vediamo queste bellissime rose appunto che hanno delle bacche c'è un estratto si c'è un estratto proprio dai cinorrodi proprio dalle bacche rosse e pensiamo che 100 grammi di questo estratto 100 grammi appunto di rosa canina non dell'estratto equivale a circa un chilo di vitamina C estratta da limoni e aranci addirittura quindi aranci tra l'altro questo è importante perché si alzano le difese immunitarie del nostro corpo perché spesso quando ci si è stanchi si è stanchi ci si ammala anche un po' di più infatti è per questo che poi alla fine i bambini molto spesso si ammalano perché sono stanchi non dormono a sufficienza ecco che quindi in questi preparati possiamo andare a ricercare anche per esempio del polline il polline che è una concentrazione di vitamine e di amminoacidi essenziali è veramente eccezionale così come l'associazione e alcuni preparati del manganese rame che è proprio questa abbinata di oligoelementi che aumenta le difese del bimbo e senza dare assolutamente mai nervosismo quindi agendo proprio sulla nutrizione beh insomma questo è molto importante perché chi ha i bambini sa che è sempre molto difficile anche capire come e quando senta tutto questo che lei ci ha descritto questi elementi che derivano dalla natura dalle erbe dalla nostra vegetazione che ci circonda abbiamo accennato prima che bisogna assumerli nella maniera più opportuna come assumerli quindi allora sicuramente tutto quello che è liquido è già pronto ad essere assorbito del nostro organismo tutto quello che invece è in compresse o comunque in solido deve essere poi reso liquido quindi il consiglio è quello di cercare dei liquidi degli sciroppi dei flaconcini per esempio anche per aumentare le difese dei bimbi ci possono essere delle triadi eccezionali di oligoelementi gemmo derivati ed estratti di piante in sciroppo oppure flaconcini pronto uso tutto ciò che è liquido che è veloce poi deve avere anche un sapore buono però perché il difetto delle piante è che non sempre possono piacere e talvolta dare al mattino per esempio un flaconcino che serve per stare meglio per sostenerci però se ha un sapore cattivo non lo prendiamo volentieri quindi bisogna cercare un qualche cosa che venga anche opportunamente aromatizzato e per quanto riguarda le piante anche quelle che hanno dei sapori un po' più intensi che vengono in qualche modo attenuati senta bene grazie dottoressa signoretto allora chiedo al dottor Cardaci di parlarci per pochi minuti cambiando anche argomento della depurazione del fegato perché in primavera è essenziale partire anche da lì per arrivare poi a dare una carica all'organismo e arrivare anche ad assumere questi prodotti di cui ci parlava la dottoressa perché prima bisogna depurare poi bisogna agire sicuramente è fondamentale riuscire ad eseguire una depurazione che poi può così mettere in moto il nostro organismo perché possa poi agire dal punto di vista fisiologico nel modo migliore e ottimale quindi sono utili questi consigli che abbiamo appena ascoltato perché questa è una stagione un po' di transizione stiamo per arrivare al periodo estivo siamo stanchi da un inverno molto lungo quindi abbiamo sicuramente bisogno di ritemprare sia il nostro spirito ma anche il nostro organismo con dei sistemi che ci possano aiutare senta quando però c'è una depurazione che parte dal fegato in caso di assenza di patologie no? parliamo ecco ci sono queste sostanze che sono molto efficaci invece però ci potrebbero essere dei problemi un po' più seri no? sì dei problemi più seri lasciamo la parte la parte virale del fegato quindi le malattie di tipo infettivo ma ci possono essere anche delle comuni malattie o forse stati di essere del nostro fegato che potrebbe essere per esempio la steatosi epatica se ne parla spesso è qualcosa che noi occasionalmente magari troviamo forse non la classifichiamo come una vera e propria patologia però è un segnale che il nostro fegato comincia a non funzionare più poi correttamente la steatosi epatica detta anche comunemente fegato grasso molto spesso viene ritrovata dal radiologo con una banale ecolografia che viene eseguita magari per altri motivi e ci definisce questa condizione che ancora non è malattia ma ci deve mettere in uno stato di preallarme proprio perché vuol dire accumulare all'interno del nostro fegato materiali di tipo grasso che infarciscono poi le cellule epatiche e non le fanno lavorare quindi con una corretta alimentazione e un aiuto anche farmacologico bisogna cercare di rimettere le cose in carreggiata sicuramente sì anche bisogna così valutare se ci sono stati dei farmaci che possono aver causato questa condizione magari anche l'assunzione di sostanze di tipo alcolico sostanze di tipo tossico che poi alla fine affaticano il nostro fegato e quindi lo fanno funzionare non bene insomma alimentazione importante giusto alimentazione importante fare anche un po' di attività fisica e aiutarsi anche con i prodotti naturali perché no ecco va bene allora dottor Cardaci adesso ci interrompiamo perché questa sera non abbiamo la ricetta della salute ma la salute in tavola è rappresentata con l'olio extravergine di oliva abbiamo visto in queste settimane tante preparazioni di pesce abbiamo visto con grande entusiasmo a quest'ora noi che non abbiamo ancora cenato e su tutte queste ricette abbiamo sempre visto l'importanza fondamentale il ruolo fondamentale dell'olio d'oliva e noi siamo andati a Vinitaly abbiamo conosciuto un'azienda che produce olio ed è un'azienda proprio mantovana delle colline moreni che qualcuno dirà ma strano che si produca dell'olio d'oliva anche a Mantua eppure è così ci vediamo questa clip e poi un po' di pubblicità e ci ritroveremo ancora a parlare di benessere e bellezza ma anche di dimagrimento attenzione tra poco Allora innanzitutto permettiamo che la nostra produzione di olio è veramente limitata abbiamo pochissime piante però usufruendo appunto del clima del lago di Garda ne esce un olio veramente molto buono e molto basso di acidità questo olio viene usato veramente per pesci sia di mare ma anche di lago tipo il branzino soprattutto con questa delicatezza che ha questo questo olio è veramente veramente unico abbiamo scoperto veramente un olio importante anche nelle nostre colline come abbiamo detto è un olio molto delicato non è ovviamente un olio di corposità che copre queste fragranze questi profumi del pesce e devo dire che proprio è adatto proprio per il pesce quello che voglio premettere è che questo olio viene praticamente spremuto nelle 24 ore dalla raccolta per avere un olio molto fine e molto delicato bentornati in diretta con medicina in linea torniamo a parlare di bellezza di benessere questa volta parliamo di dimagrimento come benessere e ospite con noi la signora Fulvia Laporta esperta di bellezza e di benessere e senta quanto è importante perdere qualche chilo per ritrovare non solo il senso estetico diciamo noi ma proprio il benessere fisico è fondamentale è importantissimo ed è fondamentale anche perché il benessere fisico è alla base di tutto perché ci rivolgiamo anche delle persone che hanno una vita abbastanza movimentata quindi hanno bisogno proprio di perdere qualche chilo di perdere qualche chilo spesso non si ha il tempo di fare diete drastiche eccetera le persone tendono a non alimentarsi bene a mangiare di fretta esatto un'alimentazione un'alimentazione è alla base è alla base di tutto senta tra l'altro rimagrire è anche molto importante perché chi deve non so prepararsi delle operazioni chirurgiche sì sicuramente infatti ho avuto persone che hanno dovuto operarsi alla spalla e hanno perso chiaramente operati con dei chili in eccesso è un risultato invece con un peso minore si ha un risultato migliore sicuramente per quanto riguarda le ginocchia poi è il massimo e la spalla è tutto meglio ancora quindi insomma il senso di dimagrire può essere certo un senso estetico e questo non lo si nega ma però deve essere anche concepito come concetto di benessere è anche necessario è anche di salute è anche di salute perché comunque dimagrendo migliora tutto esatto giusto i chili di troppo esatto non può non essere d'accordo anche perché sicuramente bisogna fare un'alimentazione equilibrata è certo e quindi stiamo meglio lei è un'esperta anche in questo senso i consigli che vengono da voi vanno anche in questa direzione non solo l'estetico sono consigli alimentari ecco noi non diamo diete diamo dei consigli alimentari noi usiamo dei macchinari che non hanno nessuno aiutato siamo venuti anche a vederli no? sì perché questo significa che la tecnologia vediamoli intanto questi macchinari la tecnologia ci aiuta anche in questo settore ci aiuta tantissimo perché dimagrire non è facile certo ecco e quindi noi aiutiamo il cliente ecco questa è la magic light la macchina che non ha nessuna controindicazione produce solamente calore un calore secco e non umido che perciò fa anche bene la donna va giù dal mezzo chilo e l'uomo dagli otto etti in poi quindi diciamo che aiuta tantissimo è chiaro facendo un'alimentazione eh certo non è che si può mangiare dei gran risotti alla mantovana e poi essere messi sotto la macchina ecco bisogna aiutarsi risotto si può mangiare sì con moderazione però con radicchio esatto esatto che va benissimo senta c'è un telespettatore e telespettatrice già in linea pronto? sì pronto buonasera vorrei porre una domanda alla signora del centro Snelli ci dica ci dica volevo sapere una volta che viene fatto il trattamento anticellulite i risultati si manterranno nel tempo oppure si dovrà seguire un eventuale mantenimento adesso glielo chiediamo grazie buonasera buonasera sì perché poi lei è un'esperta anche nel combattere la cellulite noi abbiamo delle immagini che abbiamo girato dove ci fa capire proprio che c'è una macchina che aiuta abbiamo un macchinario intanto questi trattamenti con questi macchinari non sono risolutivi no no sicuramente la bacchetta magica non c'è nessuno migliorano tantissimo è un macchinario vediamo se possiamo vederli mentre è un macchinario innovativo l'abbiamo da un bel po' di mesi stiamo lavorando bene endosfer è un sono delle sfere di silicone messe a nido d'ape che lavorano ecco sono messe a nido d'ape e lavorano a compressione graduata sul corpo quindi migliorano livellano le cellule adipose migliorano la circolazione sanguigna agiscono praticamente da pompa e c'è una ritenzione edica che proprio scompare facendo i trattamenti migliora anche la buccia d'arancia perché è proprio andiamo a livellare e a dare ossigeno alle cellule senta rispondendo per la sua intanto continuiamo a vedere queste immagini e rispondiamo alla telespettatrice sì non basta un trattamento no 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 beh intanto diciamo che endosfer oltretutto adesso sta facendo vedere il gluteo oltre a trattare la cellulite questa compressione vibratoria delle sfere agisce anche sul tono muscolare quindi è importantissimo infatti si vede immediatamente fin dalla prima seduta che proprio il gluteo va su ecco quindi signora a casa chiaro che ovviamente chi ha la cellulite sa che non si può miglioramento dopo le sedute che si fanno c'è un miglioramento chiaro che bisogna fare un mantenimento purtroppo si sa ed è alla portata di tutti la conoscenza che la cellulite purtroppo non si devella ecco quindi bisognerà continuare magari una volta ogni tanto a ripetere questi trattamenti e ad avere sempre un'alimentazione equilibrata bere tantissimo per esempio e magari puoi camminare o andare un po' in bicicletta anche che ci fa bene anche quello allora c'è un'altra telefonata pronto? pronto? pronto buonasera vorrei porre una domanda alla signora La Porta ci dica avrei bisogno di dimagrire una decina di chili e vorrei sapere in che cosa consiste il programma di dimagrimento soprattutto per l'uomo certo grazie grazie buonasera grazie allora la pancetta c'è per l'uomo e per la donna diciamo che l'uomo è più fortunato perché non avendo tutti i problemi di ormonali che ha la donna l'uomo dimagrisce un po' più alla svelta ci mette cioè fa prima dice fa prima sì perché l'uomo in macchina abbiamo visto prima la macchina noi adoperiamo innanzitutto delle creme studiate dai nostri tecnici del dimagrimento che hanno dentro dei principi attivi quindi l'uomo va giù in macchina dagli otto etti al chilo al chilo qualcosa la donna invece quanto tempo ci vuole per dare un'indicazione anche al telespettatore ecco per tipo perdere dieci chili 40 minuti ecco dieci chili in due mesi vanno via sì perché se consideriamo che l'uomo va giù è tendo d'accordo la corretta alimentazione è chiaro chiaro poi non è solamente il dimagrimento no perché io vorrei continuare a mangiare e anche perdere dicendo non è possibile no non è possibile e beh nelle consulenze è la prima cosa che dico che si dice chiaro perché altrimenti no perché sa cos'è che le persone alcune volte pensano che queste macchine siano la panacea sì ma mi è capitato mi è capitato mi è capitato sicuramente ma no non è così tu il Cardaci dice sì sì con la testa no 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 bisogna associare una corretta alimentazione e anche bere bere tanto perché fa benissimo senta le volevo dire che oltre questo macchinario qui che fa appunto perdere peso non è solo un dimagrimento fine se stesso perché poi si passa in un'altra cabina dove c'è l'elettrostimolazione quindi con altre creme studiate quella che fanno anche gli atleti per recuperare eh sì facciamo un modellamento corpo quindi non è un dimagrimento fine a se stesso ma è un modellamento corpo è molto bello lo si vede nel giro di pochi giorni si vedono anche i risultati senta naturalmente adesso arriva l'estate il caldo si parla anche di trucco per le signore sì qualche signora chiede anche un trucco semi permanente in modo che non stia lì anche su quello ci sono nuove frontiere nuove tecniche noi abbiamo una una professionista collaboriamo con lei da quasi 14 anni è una professionista che viene da Ferrara e fa solamente il trucco semi permanente tante volte succede ma come è la tendenza come è la tendenza cioè è sempre più richiesta è sempre più richiesto lo dica che io sono un esperto non so se la dottoressa signoretto magari perché comunque ma si è molto bello infatti io ce l'ho è chiaro ecco non posso non averlo il la sopracciglia per esempio con l'andare del tempo perde diciamo comincia a fare un po' di buchi un po' di cose quindi bisogna sistemarla farla con la matita quando c'è caldo è una cosa un po' che insomma dopo magari ci passiamo la mano ecco e che facciamo la riga invece è sempre più richiesto è sempre più richiesto perché comunque da una forma e poi dura più di un anno insomma viene la professionista guarda il viso fa la sopracciglia più adatta al viso della signora così fa anche la bocca perché comunque col tempo si perde il contorno e quindi bisogna un attimo rinfrescarlo da voi c'è anche un rassodamento seno abbiamo anche un rassodamento seno sia con endosfer e anche con delle altre sistematiche sempre per quanto riguarda elettrostimolazione con abbinamento dei nostri prodotti bene dottor Cardaci altra cosa invece è la liposuzione liposuzione è tutt'altro però liposuzione con certe anche macchine possono andare d'accordo perché mi diceva la signora che addirittura ci sono delle macchine che aiutano il post liposuzione sì 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 perché questa endosfera avendo queste sfere di silicone che agiscono a compressione graduata vanno a livellare dopo una post liposuzione dopo una liposuzione vanno a livellare il tessuto quindi è molto interessante e poi drenano tantissimo perciò beh insomma c'è una bella collaborazione anche dal punto di vista medico con i medici estetici viene consigliata proprio dal chirurgo estetico che fa la liposuzione allora dottor Cardaci la liposuzione che cos'è esattamente? è una metodica chirurgica è un intervento tra l'altro classificato come intervento chirurgico di chirurgia maggiore è una metodica che serve per aspirare e quindi definitivamente le cellule di grasso con degli aghi no? degli aghi che dovremmo anche con delle cannule con delle cannule che dovremmo vedere anche sono delle cannule qui è appunto uno strumentario scusi ho detto aghi perché non sono avezzo perché sembrano aghi in effetti no no in realtà sono delle cannule teniamo presente che quella che vediamo nella parte sinistra del teleschermo è lunga circa 35 cm quindi non è piccola effettivamente mentre quelle più piccole che vediamo sulla parte destra del teleschermo è un po' più sottili come calibro servono per fare zone magari come potrebbe essere un sottomento potrebbe essere un interno ginocchio quelle più lunghe servono ovviamente per andare a togliere quella che è la allora vediamo la differenza prima o dopo dell'intervento nell'immagine successiva intanto la differenza tra l'ipostruzione e l'iposcultura ma i risultati sono evidenti i risultati sono evidenti diciamo che potrebbero anche non essere permanenti quello che dicevamo prima poco fa è che dopo certi trattamenti anche chirurgici qui vediamo appunto una cannula che penetra nel tessuto adiposo dove c'è un'aspirazione di quei lobuli cellule di grasso vengono aspirate definitivamente ma qualcosa pur sempre rimane non è che si possa tirar via tutto il panicolo adiposo di un paziente in una certa zona ciò che rimane è ciò che potenzialmente potrebbe andare a rioccupare il posto delle cellule che sono state poi aspirate in precedenza durante l'intervento quindi questo intervento come tutti gli interventi mirati in questo senso questo intervento non autorizza assolutamente le pazienti o i pazienti a poter mangiare tutto ciò che vogliono ecco questo è importante è un po' come quando si va dalla signora la stessa cosa lo stile di vita deve essere mantenuto il più corretto possibile sia l'alimentazione ma anche l'attività fisica che ovviamente serve l'iposuzione e l'iposcultura sono due cose abbastanza simili nella liposuzione noi togliamo il tessuto e lo gettiamo adiposo e lo gettiamo nella liposcultura è possibile invece ovviamente centrifugare il grasso che viene aspirato dal paziente praticamente galleggia il grasso perché è abbastanza morbido e soffice galleggia sulla parte liquida che invece resta al di sotto delle provette dove viene depositato viene centrifugato si ripreleva questo grasso e può essere reiniettato in altre zone del corpo dove noi vogliamo reinserire questa metodica negli anni appunto negli anni 80 viene definita l'ipofilling cioè praticamente viene aspirato il grasso in una zona corporea viene reiniettato in un'altra zona quindi è un autotrapianto alla fine di cellulodipose che possono essere fatte nella stessa paziente senti dottor Cardaci non cerchiamo cerchiamo di spiegare bene perché ci sono possono essere anche delle complicanze non sottovalutiamo diciamo questo intervento perché talvolta sembra che sia così immediato che le persone sia una scorciatoia per dimagrire no non deve essere assolutamente visto come un metodo di dimagrimento perché noi togliamo magari degli etti di grasso ma non certo decine di chili quindi questo va fatto con altri sistemi decisamente ma è pur sempre un intervento chirurgico e come tutti gli interventi chirurgici dai più banali e più importanti esistono delle complicanze che vanno anche discusse direi con la paziente prima dell'intervento perché nel consenso informato deve essere anche spiegato ciò che potrebbe anche capitare malauratamente dopo questo tipo di trattamento ad esempio abbiamo per esempio delle complicanze di tipo minori per esempio l'edema che è normale quindi un rigonfiamento del tessuto delle chimosi quindi delle piccole soffusioni microemorragiche irregolarità piccole irregolarità cutanee che dicevamo prima con certe macchine dopo questo tipo di intervento possono essere livellate queste irregolarità una iperpigmentazione una cicatrice ipertrofica teniamo presente però che l'incisione dove viene appunto infissa la cannula è di non so un centimetro non di più quindi è abbastanza minima ma potrebbe capitare anche questo una lieve anestesia che nel 99% dei casi quindi tende a regredire ma in un 1% dei casi delle pazienti può rimanere la zona trattata insensibile per sempre e quindi queste sono le complicanze direi minori ma sì che poi sono transitorie tra l'altro quasi tutte le complicanze maggiori invece queste sono veramente più importanti l'ematoma se l'ematoma è veramente grande ed importante è abbastanza raro se si usano queste le cannule di ultima generazione sono smusse quindi non pungono alla fin fine perché hanno una parte rotandata però potrebbe romperci qualche vaso sanguigno le infezioni le infezioni queste sono direi purtroppo possibili anche in ambienti sterili è una complicanza rara ma che si avviene avvenendo in un tessuto adiposo e sottocutaneo diventa veramente qualcosa di devastante e poi scusi acceleriamo perché dobbiamo andare in curiosità da lì poi è un crescendo naturalmente anche per l'anestesia per l'anestesia si potrebbe purtroppo giungere raramente ma c'è anche la possibilità di morte tutto questo per far capire che la salute è importantissima parte il benessere dalla perdita di peso perché senza i chili di troppo abbiamo meno complicanze possibili ci sono questi istituti che sono specializzati con queste macchine dove la tecnica in sostanza ci aiuta ci viene incontro ma il messaggio che abbiamo dato è quello che in primis c'è l'alimentazione nell'attività fisica e poi ci si può aiutare anche con le macchine e anche con gli interventi tipo di liposuzione ma nessuno pensi insomma che ci sia la bacchetta magica allora adesso andiamo in pubblicità e poi parleremo di ansia perché spesso l'arrivo della primavera con anche dei traguardi delle mete insomma da raggiungere per il finale dell'anno lavorativo scolastico mette un po' di apprensione Tormoglia un esperto e quindi dopo la pubblicità sentiremo lui a tra poco bentornati in diretta con Medicina in Linea ultimo segmento della nostra trasmissione che dedichiamo all'ansia e vediamo adesso come curarla con la natura con il dottor Omoglia e di nuovo la nostra dottoressa Signoretto ansia dottoressa che spesso provoca insonnia specialmente in primavera quando cambiano anche gli orari ci siamo forse appena abituati al cambio sì ma il cambio dell'ora proprio anche lì non si riesce non si riusciva a dormire si dormiva un'ora in più allora senza demonizzare meno io che sono anziano ma no anziano via allora che dobbiamo dire no senza demonizzare le benzodezepine perché per carità qualche volta può anche essere necessario magari saltuariamente ecco l'importante però che non ci sia un'abitudine perché poi c'è dipendenza e assuefazione cioè bisogna prendere sempre di più la quantità dovuta per poter avere l'effetto desiderato allora cosa possiamo prendere a livello naturale prima di tutto pensare a delle piante e sicuramente la principale pianta da pensare è la valeriana che tutti quanti conoscono le scolze californica che è il papavero giallo della California che è la pianta più ipnotica che possiamo utilizzare in maniera normata diciamo così e non hanno effetti collaterali possono essere date sempre in associazione sempre con il solito sistema di guardare l'etichetta quindi ben concentrate e poi pensare anche nel caso in cui questo soprattutto nelle signore succede soprattutto nelle signore magari che hanno diciamo superato i 40-45 anni quando l'ansia si associa anche a un po' di depressione per esempio associate con l'iperico la magnolia e la scutellaria che sono tre piante davvero molto utili che non danno dipendenza non danno soefazione possono essere usate tranquillamente senza perdita di coordinazione dei movimenti questo è fondamentale poi ci sono anche dei momenti importanti su come assumere queste erbe queste piante ad esempio il dottor Cardaci ci ricordava qualche puntata fa che la melatonina ad esempio va presa in una situazione di estrema calma non mentre si sta guardando la tv ascoltando lo stereo eccetera spegnere tutto mettersi tranquilli e assumere melatonina se no non fa effetto in questo caso invece ma in questo caso se c'è insonnia sarebbe opportuno fare una pre chiamiamola pretrattamento quindi durante il pomeriggio per esempio una piccola dose non forte appena appena appunto preparare l'organismo poi dopo cena se uno sa che generalmente è un periodo in cui soffere di insonnia iniziare e prenderlo magari verso uno sicorica verso mezzanotte non aspettare a prenderlo alle 11 di sera ma a prenderlo già alle 10 benissimo dottor Moglia senta ovviamente il paziente va in farmacia e come si deve orientare sempre che vada in farmacia speriamo che vada in farmacia perché qualcuno digita su internet e si arrangia ovviamente le opportunità che vengono offerte sono molteplici è meglio consigliare sempre di rivolgersi a dei professionisti della salute quale il medico oppure il farmacista senza togliere a molti altri che possono consigliare questi prodotti perché perché dal medico trovano sicuramente una persona che conosce già la storia del paziente quindi nel modo migliore può dare il miglior consiglio il miglior suggerimento anche nell'ambito salutistico e naturale certo bisogna dare anche l'indicazione perché altrimenti si rischia di perdere un po' poi spesso la vita quotidiana ci insegna che molti disturbi chiamiamoli situazionali lo stress l'ansia qualche problemino perché no al lavoro i colleghi magari anche a casa possono far sì che ci serva un qualcosa da poter prendere nell'immediato ed ecco quindi quando non abbiamo la possibilità di avere una visita dal nostro medico ecco quindi direi che il farmacista può risultare veramente la persona più preparata più utile proprio al nostro stato di benessere psicofisico e quindi direi che questi prodotti che chi mi ha preceduto la dottoressa Signoretto ha nominato a base di estratti secchi titolati e standardizzati quindi sempre ben concentrati possono risultare il consiglio più ottimale più efficace senta che tra l'altro anche qui come vanno assunti in quanto tempo quali sono le posologie le tempistiche nel corso della giornata sì l'assunzione dipende ovviamente dalla problematica se parliamo di ansia disturbi dell'umore la cosa che noi farmacisti consigliamo è l'utilizzo non solo quotidiano ma già fin dalle prime ore del mattino l'ideale è assumere prodotti in gocce perché più facilmente dosabili quindi possiamo alternare le 10 le 15 le 20 gocce di tinture madri macerati glicerici già a metà mattina e poi a seconda dell'esito che otteniamo da queste piante eventualmente ripetere la somministrazione senta pochi minuti ancora ma per ricordare e questo è molto importante che tutte queste cose che vi stiamo dicendo dovrebbero essere precedute da una sana depurazione perché altrimenti l'organismo non smaltisce ma riassume ancora sempre più come si fa l'intasamento da farmaci non vorrei che ci fosse l'intasamento da erbe quindi proviamo a depurare bene l'organismo prima di approcciarci a questi rimedi che aiutano depurare ad esempio con che piante anche in questo caso le piante possono risultare molteplici vorrei premettere però una cosa i latini ci hanno insegnato che la mente è sana solamente in un corpo sano ed ecco quindi che come ha accennato lei la depurazione risulta essere fondamentale in questi periodi la primavera usciamo da una stagione lunga invernale piovosa ed ecco quindi che utilizzare delle piante quali la betulla il tarassaco l'uvorsina i pedunculi di ciliegio sono tutte piante che veramente non possono far altro che depurare l'organismo il fegato i reni l'intestino e la pelle e quindi aiutarci a questo stato di benessere motivo per il quale chi mi ha preceduto ha già ampiamente esquisito poi migliora tutto anche la pelle migliora pure la pelle anche la pelle assolutamente sì anche la rende più luminosa quindi diamo una mano ai nostri amici che hanno questi centri specializzati uno arriva magari già bello bello depurato vi da una mano è un po' meno perché insomma la filosofia è sempre quella quando funziona bene l'organismo bene allora abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione è stata una piacevole conversazione con i nostri ospiti quella di questa sera abbiamo imparato imparato tante cose nuove relative alla bellezza e al benessere allora ringrazio il dottor Paolo Cardaci nostro medico di base ma anche medico estetico poi la dottoressa Loretta signoretto farmacista tra l'altro la dottoressa anche ha scritto delle pubblicazioni sono molto importanti lei è un'esperta ma l'abbiamo vista anche nelle puntate precedenti ma con il dottor Moglia farmacista grazie per essere intervenuto dottor Alessandro chiamiamolo anche per nome ci rivediamo credo l'8 di maggio per una puntata particolare perché voi sarete impegnati in una manifestazione molto diciamo così io riutilizzo il termine particolare perché mi piace molto anche l'anno scorso l'abbiamo seguita poi forse avremo occasione di avvicinare anche la signora Ricciarelli adesso vedremo se interverrà o meno quindi ci rivedremo in quell'occasione perché la medicina olistica la medicina naturale fitoterapica sono sempre medicine le chiamiamo così o meglio rimedi che aiutano le persone in maniera alternativa o complementare a quella naturale e poi saluto anche la signora Fulvia Laporta arrivederci a presto spero lei con tutti i suoi macchinari ecco che bello che bello verremo a trovarla grazie a voi cari telespettatori ci vediamo in diretta mercoledì prossimo e poi c'è una replica per chi si è messo in contatto con noi solamente adesso ha perso l'inizio trasmissione domani mattina 10.40 domenica 9.40 buonanotte una produzione telemantova in collaborazione con centro del riposo d'Oreland a Cerese la nuova collezione letti e gli innovativi materassi fisiologi ristorante acquapazza a Mantova i sapori della penisola sorrentina di l'intervento l'intervento Grazie a tutti.